Bella vecchi dramani, siamo tornati qui dopo le vacanze, finalmente con un altro video, ho cambiato anche la mia voce, è molto più radiofonica Con un altro colorito, siamo affronzati un po' E niente, siamo qui con il demo di PES Che figo è intanto il coso, il colore di PES, non è blu, è un celeste, capito? Giochiamo uno contro, non so che scopo C'è sta la Roma, mamma mia sì, mamma mia fermi tutti Io mi piuo la Roma, quindi C'è sta la Roma, dai io così Roma a Brasile ragazzi, sembra la degno Tanto vediamo tutte le prime impressioni che abbiamo su questo gioco, non sappiamo, non sappiamo se lo porteremo sul nostro canale Perché noi come sapete giochiamo molto a FIFA, è tanto che non gioco a PES, io mi sono fermato a PES 9 Poi da lì ho cominciato a giocare a FIFA E vediamo oggi, intanto ci dite se volete vedere PES sul canale Paretes, c'è rega tutti i giocatori che ci stanno, allora Curci se n'è andato, Verde se n'è andato Sanabria se n'è andato, Dumbia se n'è andato Calabria sicuro se non sbaglio se n'è andato Barzaretti si è ritirato Dumbia se n'è andato, ho già detto, non lo so Colla a Rescisto Young Ambigua se n'è andato E basta, e pur a Story, cioè a Story se n'è andato a giugno praticamente E sta qua Partiamo con questa, puro Lebas rega, c'è sta puro Lebas Poi mettiamo il Miranda titolare La facciamo così, leviamo Lebas e mettiamo Florenzi PES rispetto a FIFA è più, non so come dirlo, è più cartonato Cioè, FIFA è più realtà, questo è più cartonato Vabbè, se ce ne fate cominciare, ah, da sta spring start Ma tutto questo Ah, si parte Già non ci sto capincazzo Lo rimetti in me, no Mamma mia, Castan, Leo Oscar, Oscar Dai, vaffanculo Dai Daniele Rasha Pjanic, lo vede, lo vede Juan Oh, oh, felipe lo viste Mamma mia, come giocano Tiki-taka Attenzione, se ne va Oh Guardalo, guardalo L'hai tipo rotto Mamma mia Nimar, Nimar Nimar, cioè, sei l'unico giocatore di cui mi fido Per favore Grande, grande, Nainggolan, il giallo Guarda che figata Nainggolan Serrafi, per rosso Sì, ancora, la Milaga la cresta, però In mezzo a due, Nimar, ancora Guarda che culo Ma che busta Nimar, Nimar, carica al destro, Nimar Che coglioni, non riesco a prenderne palla Vabbè Ancora, vai Continua così Oscar Mamma mia Mamma mia, Oscar Mamma mia, lo vede a Tardelli Ma chi è a Tardelli? Che prego a Tardelli Dio, come giocano? Manu Manu Numero di Manu Manu del Moral Partito Gervi Partito Gervi Grande, Gervi Si è perso la palla È realisticissimo sto gioco Uh, quasi Uh, Neymar De Santi sta ancora fuori Oh, guarda Uh Ancora, la palla per Fernandinho Im, Im Eh, che Via, 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 via Non ho neanche visto dove cazzo stava il pallone Dai Francesco 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 Vedi Gervinio che parte Ma lui corre Ah, cazzo Cerchio ha scivolata Merda L'ho ucciso Eh, sì C'è giallo, c'è giallo Ci sta, ci sta Perché Cerchio ha scivolata? Guarda che bello qua Ancora Eh, mamma mia, fintone Ancora Oscar Mamma mia, Nengolana ha rischiato, eh Ha rischiato l'Ina, Nengolana, eh Ancora Vai alla Verdi Rossi Francesco Francesco Si gira Vedi che parte Gervinio L'ha visto È partito La freccia È rigore No, col cazzo Palla piena Luis Gustavo Luis Gustavo Lo vede a Will Oh, Tardelli Oh, Tardelli Però, lo stop Che cazzo fa Che cazzo fa Passa indietro Magari è stronzo Vai, Francesco Palla per Manu 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 Numero Si gira Manu Lo manda Ancora Gervinio La prende E il tiro E il tiro Subito Gervinio Un tiro basta Guardalo che parte Il lasci Sta al bacio Ma che è sta roba Che è Lo pure fa Guarda Vedilo come le pare No, no, tranquillo Non mi interessa Come si manda avanti Non lo so Vai Gervin Vedilo Vedilo a Manu Vedilo a Manu Che è partito Vedilo Manu A Manu Porco il Chris Tiano Come? Ma a fare tutto lui Ma che cazzo Di passaggio era? Gervinio Parte lui Ancora Contropiede la Roma Lo può partire Palla per i turbe I turbe può andare da solo Non prende neanche palla La palla per Luis Gustavo Che lo vede a Tardelli A Tardelli Dovevi vedere Tardelli Il mado li fa così Visto Che diventa la freccia Che figata cosa Dà la freccia comunque Oh ancora Gervinio Guarda che parte qua Racio Lo prova Mamma mia Si Maicon lo prende I turbe Totti Ambedo i turbe ancora Il passaggio di ritorno La metti in mezzo Sta C'è il figno Che passaggio Di merda La partita qua Si porta al termine C'era fuori gioco C'era fuori gioco Per lui William 89esimo La Roma Sta facendo un'impresa Contro il Brasile Ancora Parla per Manu È partito Col Maicon Sopra Ancora Ancora per Totti La Palfi Capito Finisce qui Finisce qui E vince La S Roma 1-0 Che gol Che gol Di Gervinio Un gol di merda Ma ci sta Perché Unico tiro in porta La Roma è forte E vincerà Attenzione Quanti tiri 2 tiri in porta per la Roma Contro 10 del Brasile No 2 tiri Di cui 1 in porta 10 del Brasile Di cui 4 in porta E mi dispiace Ma siamo più forti Noi Siamo più cinici La Roma Vince Questa partita Dei Santi Spende 7 Perché ha fatto Le grandi parate Poi c'è Il 7 di Gervinio Il 6 e mezzo Di Turbe Anche le pagelle Che figata Questo gioco E questo è per comprarlo Ecco Perché ci sta Ovviamente Ma è già uscito Ragazzi Speriamo vi sia piaciuto Questo gioco Questo video Dite le vostre impressioni Su PES Anche voi Se avete scaricato La beta La demo Non la beta La demo E noi Come primo impatto Non sembra neanche Tanto male Ovviamente Bisogna abituarci Ovviamente Tanto che non giochiamo A PES Quindi è un altro gioco E la prima volta Che giochiamo Che io almeno La prima volta Che ci gioco Dopo 6-7 anni Qualcosa del genere E niente Dai grazie a tutti Mettete like Diteci le vostre opinioni Su questo gioco In descrizione Ci sono Instagram E la pagina Facebook Come sempre Andateci a dare un'occhiata Bella Ciao